Il Comune di Battipaglia, aderito anche per il 2019, hanno appena iniziato al progetto del Banco Alimentare Campania Onlus. Il nome del progetto è denominato Condividere i bisogni per condividere il senso della vita. Come si evince dall'albo pretorio dell'ente, si prevede la distribuzione a 120 nuclei familiari, utilmente collocati in apposita graduatoria, di pacchi contenenti prodotti alimentari di prima necessità. Nelle more dell'approvazione della graduatoria 2019, i pacchi vengono erogati ai beneficiari individuati con la graduatoria 2018.